Cerimonia di premiazione oggi a Urbino per sottolineare il grande successo delle campionesse provinciali Under 13 della Robert Iboni Volley. Parliamo nuovamente di pallavolo, questa grande tradizione a Urbino. C'è stata l'affermazione su scala provinciale di questo gruppo di giovani guidate da Roberto Liuzzi come allenatore e dal presidente Giancarlo Sacchi, ma l'amministrazione comunale con il sindaco, il vice sindaco e l'ufficio sport ha voluto premiarle, ringraziarle, sottolineare il bellissimo lavoro svolto durante l'annata 2012-2013. Ricordiamo le ragazze che oggi hanno ritirato medaglia e riconoscimento e sono Benedetti Francesca, Burratti Linda, Caldari Elena, Clementi Laura, Cleri Anna Lisa, Di Nino Eleonora, Diotalevi Giorgia, Guzik Marta, Matteucci Alessandra, Nardini Arianna, Saponara Martina, Spadoni Lisa, Ugo Cioni Laria e la capitana o il capitano Bucci Cecilia. Abbiamo ricordato l'allenatore Roberto Liuzzi, ma poi ricordiamo anche l'altra parte dello staff tecnico, l'allenatrice in seconda Angela Gaeta e gli assistenti allenatori Domenico Petruzzelli, Luca Conoscitore, Annalisa Dionigi. Il responsabile del settore giovanile della Robur è Antonio Bernardini, il presidente Giancarlo Sacchi. Oggi il sindaco di Urbino, Franco Corbucci, il vice sindaco, nonché assessore allo sport, Lorenzo Tempesta, hanno voluto salutare dunque l'intero gruppo. Nella ex sala consigliare del municipio il saluto e poi la consegna delle medaglie, il riconoscimento, la foto con la coppa vinta dalle campionesse provinciali. E quindi Urbino continua questa bella lunga tradizione nel settore del volley con uno sport che significa fare squadra, che significa certo allenamento e sacrificio, ma anche grandi soddisfazioni.